Marello stasera il premio l'hai preso te 5.44 Maurizio Limbordo, la prima volta che ti vedo comparire, quindi ti saluto. Non tutti mi compaiono. Allora, siamo a oltre 900 persone già collegate, quindi io direi di iniziare. Buonasera a tutti, Diario di Bordo, giorno 46. Oggi stavo facendo con i miei genitori una riflessione e stavo dicendo che nonostante questa diretta, per me voglio dire ore di preparazione, cercare le cose da dire, documentarmi, farmi una scaletta, vedere in che modo riuscire a farvi arrivare dei messaggi nel modo più semplice possibile e quindi che sia comunque una fatica. Quando questa cosa qua non ci sarà più e speriamo che tutto possa finire il prima possibile, da un certo punto di vista mi mancherà. Mi mancherà questo appuntamento con tutti voi perché ritengo che sia momento che serva a fare comunità, a fare squadra, a sentirci tutti uniti verso delle finalità comuni. Iniziamo, mentre aspettiamo che arrivi qualcuno per dare poi i dati più importanti della giornata, a parlare del mercato di oggi di Via Gozzano. Ho fatto la diretta questa mattina alle 10, c'era anche il vice sindaco. Rispetto al mercato con un banco di ieri, oggi è stata una prova di un mercato un po' più strutturato. Erano 7 le persone che vendevano, 5 produttori, un ambulante dell'ortofrutta e un ambulante del pesce. Molta gente, molta più di ieri, anche se vogliamo code all'entrata, distanziate, molto regolari, con gente molto paziente, che diceva d'altra parte avrei fatto ugualmente la coda anche andando a comprare da qualche altra parte, quindi non cambia nulla in questo periodo. Si sono rispettate tutte le normative, le persone che hanno avuto accesso all'area dovevano avere guanti e mascherine, non si potevano avvicinare troppo i banchi, quindi esporsi sopra la merce che sarebbe poi stata venduta. Presenza fissa dalla Polizia Municipale, l'ANA, Associazione Nazionale dei Pini, alle entrate per regolamentare le persone, man mano che uno esce uno può entrare. Alcuni piccoli correttivi da portare, è vero, però ritengo che la prova sia anche oggi passata a pieni vuoti e soprattutto oggi, rispetto a ieri, dove eravamo la prima volta, eravamo un po' meno forse in confidenza, molte persone mi hanno avvicinato, così come hanno avvicinato anche il Vice Sindaco e altri di noi presenti, il Comandante della Polizia, ci hanno fatto complimenti per la scelta e ci hanno detto che erano contenti di poter fare quel tipo di acquisti. Una signora, non vi dico la cifra, ha comprato non so quante borse e in dialetto mi sono permesso di dirgli signora ne ha per un po', gli diceva io non uscivo da 15 giorni, sono uscito e adesso ce n'ho di nuovo per un po' e me ne sto a casa. Cito questo esempio per dire che cosa? Che molti hanno criticato la scelta perché hanno immaginato che il mercato potesse essere il protesto per qualcuno di uscire, per andare a fare un giro, comprarsi un sedano o una carota e poi ritornare magari un'altra volta. Io, a quelli che me ne sono accorto e che ho potuto perché non posso seguire tutti, ho risposto con dei scontrini che mi stanno mandando degli amici che lavorano in supermercati o da altre parti, di persone che spendono meno di un euro. Vanno al supermercato per spendere 0,30 centesimi e questo per dire che si può comprare la spesa per tutta la settimana come trovare il protesto per uscire, tanto per andare al mercato quanto per andare, sta nella testa delle persone e non nello strumento di acquisto che io fornisco. Comunque, passata la prova di ieri, passata la prova di oggi con un mercato già un po' più importante, domani c'è la prova del 9, piazza Campo del Paglio, sarà un mercato un po' più importante, non possiamo più definirlo regionale, diretta dalle ore 10, quindi anche domani vedremo in diretta i pro e i contro se è stata una giusta scelta o no. Parliamo delle iniziative, partiamo subito da qua, quindi l'appuntamento domani mattina di nuovo con una diretta speciale. Le iniziative che voglio, ne stanno arrivando tante, quindi abbiate pazienza, un po' come per i ringraziamenti delle professioni e delle persone che si stanno dando da fare in questo periodo, poco alla volta cercherò di arrivare a tutti, non disperate, ci sono molti che mi scrivono, non hai ringraziato quello, si sono persi la puntata in cui l'ho fatto, quindi in questo momento, questa sera, nella rubrica dedicata alle iniziative che meritano di menzione, ringrazio l'Anfas, l'Anfas e la Lilt. L'Anfas in quanto in questi giorni avrebbe dovuto organizzare la consueta vendita delle uova per finanziare la sua attività, in considerazione del fatto che vi sono queste restrizioni, che la gente deve stare a casa, ha deciso di donare le sue uova alla mensa sociale. Lo stesso ha fatto la Lilt che avrebbe dovuto organizzare un banchetto per vendere dell'olio. Quindi ringraziamo sia l'Anfas che la Lilt. Ricordiamo che queste donazioni alla mensa sociale vanno a una istituzione, un fiore all'occhiello del nostro territorio, siamo l'unica città in Italia che ha ancora una mensa sociale gestita dal comune. Quello che vi chiedo è un'attenzione a queste due associazioni, l'Anfas e la Lilt. Avrebbero dovuto, vendendo questi prodotti, raggranellare qualche cifra? Ebbene, quei prodotti sono andati a qualcuno che ne aveva bisogno, per un giusto fine. Manca la prima parte. Se passato questo periodo qualcuno volesse aiutarle con qualche donazione o con qualche aiuto, sicuramente con queste due associazioni non si sbaglia. Passiamo. Allora, visto che siamo in tema di citare le cose buone e i ringraziamenti, anche qui c'è un elenco di persone e di soggetti da ringraziare. Questa sera dedichiamo il nostro ringraziamento all'opera dei manutentori. È una macro-categoria. Qui dentro ci mettiamo tante cose. Ci mettiamo quelli che si occupano degli impianti, immaginiamo le caldaie, coloro che sono reperibili e che devono essere lì per intervenire e riparare gli ascensori quando si bloccano, magari con qualcuno dentro, ma fino a arrivare a quelli che si occupano anche soltanto di piccoli apparecchi, mi immagino le stampanti, mi immagino i computer, piuttosto che le fotocopiatrici, ma che con il loro lavoro consentono agli uffici che se no erano fermi magari di continuare a lavorare e quindi consentono lavorare uffici, banche, assicurazioni e quanti altri lavori vorrete ancora aggiungere. Quindi un ringraziamento va anche loro per l'importante opera che stanno continuando a svolgere in questo difficile momento. Ieri, come avete sicuramente potuto sentire, se non avete sentito magari avete potuto vedere alzando lo sguardo al cielo e vedendo una nuvola che proveniva dalla parte ovest della città, vi è stato un incendio, un incendio verso le 14 in località Via Tosto, quindi Via Tosto non vuol dire, soltanto dire Via Tosto siamo in collina, zona Via Tosto vuol dire anche la parte più bassa verso Corso Ivrea, nella zona industriale per intenderci. È un incendio che non ha fortunatamente avuto conseguenze su delle persone, ma che ha preso inagibili dei locali e che per spegnere il quale sono stati necessari non soltanto i mezzi astigiani, ma anche un mezzo che è dovuto intervenire da Torino. Quindi grazie a tutti i nostri vigili del fuoco per continuare a esserci. Qualcuno potrebbe dire cosa c'entra? Ti sei messo a fare il telegiornale? No, li cito perché è importante da una parte ringraziare l'attività che fanno i nostri vigili del fuoco, ma riprendere poi un appello che io avevo fatto nei primi giorni di questa emergenza. Alcune dirette fa, alcune sere fa mi ero permesso di trasferire un messaggio che avevo ricevuto dai vigili del fuoco che sovente sono chiamati per delle stupidaggini, sovente perdono il tempo e lo distraggono da altre cose più importanti. In più piccole cose possono eventualmente creare dei problemi a delle altre grandi come invece sono successe ieri. Allora proprio a riguardo di questo, a quell'appello che vi dicevo, chi è in campagna non si inventi in questo periodo di accendere dei fuochi o di fare delle altre cose, state tranquilli, anche se siete in campagna trovatevi dell'altra occupazione e non create delle situazioni che potrebbero essere potenzialmente pericolose. Allora a riguardo di questo cito una notizia e ricordo quindi che a tal proposito da domani 8 aprile vi sarà lo stato di massima pericolosità per tutto il territorio piemontese. In questo periodo, quello definito di massima periodità, sono vietati entro i 100 metri di distanza da terreni boscati, arbustivi o pascolivi tutta una serie di azioni che possono anche solo potenzialmente determinare l'innesco di incendi. Ci riferiamo per esempio a accendere il barbecue, accendere il fuoco piuttosto che a buttare per terra un mozzicone di sigaretta. Quindi attenzione, ci sono anche in questi casi qua delle conseguenze. Oltre a essere conseguenze personali, sono conseguenze che potrebbero ribaltarsi sulla collettività nel momento in cui le persone deputate a fare determinate cose vengono distratte per dover venire dietro a voi che invece avete creato questi problemi. Stiamo cercando di lasciare dietro nessuno. Sono stato chiaro fin dal primo giorno, nessuno rimarrà indietro. In questa città, lo era già prima normalmente, abbiamo sempre avuto un'altissima attenzione per il sociale, per i più sfortunati, per quelli che non possono correre, che magari neanche camminano e sono fermi. Allora bisogna prenderli per mano e condurli. Ancora di più in questo momento dobbiamo farlo. E quindi quando dico non ne lasciamo nessuno indietro vuol dire che ci siamo preoccupati in queste settimane di dare della comunicazione proprio a tutti. Siamo arrivati persino, come avevo fatto vedere una di queste sere, quel video fatto in più lingue, ad asti sono veramente tanti, più di 9.000 i nostri concittadini che hanno origini stranieri e quindi siamo arrivati, immaginando che magari qualcuno non avesse ancora una totale dimestichezza con l'italiano, aiutarli a cercare di dare dei messaggi nella loro lingua originale e di origine. Oggi andiamo ancora oltre. Andiamo con un'iniziativa che è rivolta verso i sordi e quindi volendo rendere accessibile a tutti l'informazione per una vera e propria presa di coscienza della situazione in cui siamo e capire le cose che stanno succedendo, si fa un ulteriore passo davanti grazie a un accordo con l'Istituto dei Sordi di Torino e quindi si crea un servizio innovativo accessibile alle persone sorde residenti, ma non solo, quindi col patrocino della provincia andremo anche a darlo sull'intero territorio astigiano. È un servizio ponte di videocomunicazione ed è accessibile a distanza per le persone sorde. Qual è il servizio, che cosa darà questo servizio, in che cosa si traduce? Per persone sorde che quindi possono essere in difficoltà nell'avere delle informazioni, daremo le informazioni precise e verificate e quindi non cose campate lì, daremo spiegazioni chiare sui comportamenti che devono avere, offreremo un sostegno anche psicologico, forneremo un servizio di spesa a domicilio per quei sordi magari anziani che hanno dei problemi, così come garantiremo la presenza in remoto di una persona in caso di una visita a queste persone da parte di un medico. Scusi, questa sera facciamo delle scuse, le faccio a tutta la città perché ero convinto che da oggi pomeriggio ci potesse essere il nuovo programma, che potesse partire il nuovo portale e che si potesse ripartire con le domande. Questo avverrà domani mattina, credo, nella giornata di domani. L'azienda oggi ha avuto dei problemi tecnici per far quadrare le procedure del programma con quelle che vi erano in comune. Comunque, fatemi spiegare che non sono uno che è tanto ferrato in queste cose, però per rendere l'idea ci sono stati dei problemi. Da domani credo ci hanno garantito che sarà tutto risolto, potrà partire tutto di nuovo la raccolta delle domande, ricordo con i nuovi criteri che sono molto più larghi dei precedenti, per cercare di arrivare a più nuclei familiari possibili, ma a fianco a questo noi non è che siamo stati fermi. Quindi c'erano degli uffici che lavoravano per la nuova piattaforma, parallelamente c'erano delle altre persone che lavoravano per mettere a posto le pratiche che ci erano già arrivate, come vi avevo detto, e soprattutto persone che andavano a consegnare questi buoni. La buona notizia quindi è che fra ieri e oggi sono stati consegnati a 177 nuclei familiari i buoni spesa, per un totale di circa 60.000 euro. Andremo avanti così ancora nei prossimi giorni e cercheremo di raggiungere sempre il maggior numero di nostri cittadini, perché tutti, chi più chi meno, siamo stati scombussolati, sconvolti, usate il termine che volete, da quello che ci sta capitando. Allora siamo partiti proprio da quelli, proprio gli ultimi, ma poco alla volta cercheremo di arrivare anche a persone, come abbiamo detto l'esempio degli ultimi introdotti, che magari avevano reddito fino a poche settimane fa, che hanno lavorato a gennaio e un progetto stipendio, che hanno lavorato a febbraio e un progetto stipendio, ma che oggi purtroppo sono a zero ore o hanno avuto un ridimensionamento dell'orario lavorativo, per cui non hanno più quel reddito di prima che gli consente di mantenere la propria famiglia. A fianco a questo, come sempre, dona la spesa, mille nuclei familiari che dal volontariato, dal Comune di Asti sono assistiti, anche qui non si lascia dietro nessuno. Ci sono ancora, la nota, troppi pochi supermercati e negozi che hanno aderito al nostro bando, vi avevo detto c'è un bando aperto, le attività che vogliono ricevere questi buoni, quindi dire al cittadino, vieni da me a fare la spesa, al posto i soldi ritiro il buono, poi li vado a incassare io in comune, me la vedo io con il comune, sono ancora pochi. Noi abbiamo bisogno che molti di più aderiscono proprio per distribuire il più possibile, dare il maggior numero di soggetti possibili presso i quali andare a spendere il buono, proprio per, nell'ottica dello spalmare la popolazione su il territorio e soprattutto nell'ottica di evitare gli assembramenti. Passiamo ora a alcune specificazioni, diciamo così, alcuni chiarimenti sull'ordinanza, la mia numero 25 di ieri, quella che ho annunciato. Chiaro, si chiude Pasqua e si chiude Pasquetta, ho detto tutti gli esercizi commerciali, oggi sono arrivate una serie di domande e allora cerchiamo di dare delle risposte a quelle domande che sono arrivate con un chiarimento o interpretazione rispetto a quello che è l'ordinanza. Allora, diciamo tutte le attività commerciali sono chiusi, in questo ambito rimangono escluse quelle attività che per decreto potevano fare la vendita a domicilio e quindi io mi immagino quei ristoranti che hanno sofferto così tanto in questi mesi, probabilmente si possono, chi ha voglia di cogliere queste opportunità, rimboccare le maniche e sfruttare la Pasqua e la Pasquetta per portare a domicilio dei propri clienti dei pasti, dei pranzi. Ecco, quello è consentito, quindi non si può andare al ristorante, il ristorante continua a mantenere chiuso, ma il ristorante può cucinare e portare al cliente a casa il pranzo bello che è servito e potrebbe essere anche un modo per aiutare l'economia locale a, non dico ripartire perché qui non stiamo ripartendo, a sopravvivere. La ripartenza sarà quando finisce questa cosa, quando ci diranno quali sono le modalità della fase 2 e tutte le altre cose. Poi sono arrivate domande dai tabaccai, i tabaccai sia domenica che lunedì sono chiusi. Noi non possiamo, mi spiace, permetterci che con la scusa del pacchetto di sigarette, così come era un'altra scusa, ci sia gente che va in giro, quindi non si potrà anche dire sono uscito la domenica di Pasqua o il giorno di Pasquetta per andare a comprare le sigarette, perché le tabaccherie sono chiuse. Relativamente alle farmacie è una categoria a parte, sappiamo benissimo, si atterranno alle loro turnazioni di apertura e chiusura e quindi in questo non mi sento di dover entrare. Le edicole saranno aperte la domenica, perché è il giorno in cui si distribuiscono i giornali e saranno chiuse invece il lunedì. Quindi farmacie e i loro turni, tabaccherie chiuse sia la domenica che lunedì, le edicole aperte la domenica perché ci sono i giornali chiuse il lunedì, abbiate pazienza per quegli amici tabaccai che mi dicono anch'io vendo il giornale, sappiamo benissimo che l'attività, il core business della tabaccheria però non è il giornale, è un qualche cosa di accessorio, quindi non è che per vendere i due giornali riteniamo aperta la tabaccheria. Noi abbiamo bisogno di scoraggiare proprio la gente a muovere, sono gli ultimi colpi importanti in un momento che sembra andare verso il positivo, iniziamo a vedere la luce ma è bisogno dare l'ultimo colpo. E poi appunto la vendita dei ristoranti, le edicole, quindi soltanto la domenica aperte chiuse il lunedì. Molti stanno chiedendo cosa succede nelle case di riposo, tutti rimangono spaventati da queste case di riposo che si vedono in televisione in alcune province, dove il male è entrato ha fatto delle stragi, ha fatto delle stragi perché ha trovato le persone più deboli, quelle magari che hanno già delle patologie, quelle avanti negli anni e quelle che purtroppo rischiano di più. Per quanto riguarda il nostro territorio, l'Asda mi ha comunicato che ci sono circa sei case di riposo che sono monitorate sotto la lente di ingrandimento in sei paesi della nostra provincia che relativamente alla struttura, alle strutture astigiani non vi sono in questo momento particolari problemi e quindi tutto viene seguito con molta professionalità e molta attenzione. Di più, l'ASL ha da alcuni giorni creato una vera e propria equip con un geriatra, la dottoressa Tamietti, con un medico urgentista, di solito mi dicevano all'ASL del dottor Ghiselli o un suo sostituto, la dottoressa Tamietti dovrebbe essere dell'USCA che dovrebbe essere l'unità speciale di continuità assistenziale con altri medici. Questi soggetti sono tutti i giorni sul territorio a fare le loro verifiche e a cercare di capire se ci sono dei problemi nel caso in cui lo si trovano ad intervenire. Noi siamo convinti che faranno tutto quello che è umanamente possibile per tenere sotto controllo la situazione. Quindi siamo con loro e li ringraziamo del lavoro che fanno. In questi giorni ho visto... Allora io dico si può avere un'idea diversa, si può anche non apprezzare una persona, quindi io posso non essere simpatico magari il mio modo di fare o altre cose, sono tutte cose che si possono esprimere, ci mancherebbe. Si può essere anche più forte e in questo periodo probabilmente c'è qualcuno che non ne può più e che si scarica e che dice magari alcune cose che non pensa o che non vorrebbe dire. Tant'è vero che con pochi messaggi a cui ho risposto tante volte ho trovato persone che rispetto all'uscita forte si sono poi ravveduti e tornati a modi di confrontarsi un po' più leggeri. Però ci sono alcune cose su cui non si può passare. Allora io comunico che ho avuto tempo di guardarmi un po' intorno ci sono stati tre persone che hanno esagerato minacciandomi di alcune cose, facendo interventi molto forti, uno in particolar modo anche ieri, io oggi mi sono recato alla polizia postale e una, due, tre persone avranno probabilmente delle conseguenze che si meritano e impareranno a quando si esprimono farlo in un altro modo. Questo mi porta a ricordare una storiella prima di arrivare ai dati che è quella dell'asino, un asino che cade in un pozzo, inizia a urlare, il contadino cerca di liberarlo, fa di tutto, poi si accorge un certo momento che era quasi impossibile e fa un ragionamento, dice ma sto asino era abbastanza vecchio, il pozzo era quasi asciutto, sai cosa ti dico? Che io faccio che seppellirlo l'asino e non mi sto lì più a pensare a portarlo via. Inizia a buttare quindi della terra e a un certo punto non ha più sentito l'asino e guarda dentro, l'asino era quasi arrivato fuori, quindi l'asino si era scrollato il fango e la terra di dosso, l'aveva buttata ai suoi piedi, l'aveva accalpestata, aveva fatto poco alla volta salire il livello di riempimento del pozzo fino quasi ad uscire. E quindi questo per dire che cosa questa storia è? Da una parte che ogni istacolo che incontriamo se lo affrontiamo con coraggio superandolo diventa un nuovo passo, un nuovo gradino verso l'alto e in questo frangente dove qualcuno ti tira dalla terra addosso mi butta del fango che io dico che la terra che mi si butta addosso mi consenterà di andare sempre più convintamente avanti e sempre più in alto. E quindi cerco di essere molto più positivo. dalla regione in questo momento non stanno arrivando ancora i dati, nonostante l'ora vi posso dire che in Italia è stato un giorno importantissimo, nella conferenza stampa di Borrelli si è arrivato a parlare per la prima volta di discesa e per la prima volta si dice il plateau, quindi c'era una salita vertiginosa che poi si è un po' più appiattita, si è arrivato in una fase che da alcuni giorni era con dei dati abbastanza stabili. Si definisce plateau, quindi non c'è un picco e una discesa immediata ma c'è per un certo periodo un plateau. Sembra che si è entrati nella fase addirittura di discesa o per lo meno di intravederla. Io ricordo sempre a tutti che i dati che sentiamo a livello nazionale che oggi ci dicono 3.000 positivi in più siamo arrivati a oltre 135.000, siamo 1.555 positivi guariti in più ma ci sono ancora 604 morti. Sono dei dati che sono delle medie, quindi una media dire che sta migliorando vuol dire che da qualche parte magari migliora di più, da qualche altra magari non si sta ancora migliorando e se io ho sempre detto che su questo nostro territorio siamo una decina di giorni indietro alla Lombardia vuol dire che noi non siamo ancora arrivati a un determinato momento che ci consentirà di tirare il fiato. Dobbiamo ancora combattere, dobbiamo ancora andare avanti. È necessario ancora un ultimo sforzo e le restrizioni che abbiamo proposto in questi ultimi giorni e che inizieranno, entreranno in vigore da giovedì, vanno proprio in quella direzione. C'è ancora troppa gente in giro, c'è ancora troppa gente che pensa che non stia succedendo niente, che tutte le cose che vediamo sono finte. Intanto è arrivato il bollettino e così abbiamo anche i nuovi dati. La cosa importante è che vi posso dire che intanto in provincia di Asti siamo arrivati a 30 guariti. In provincia di Asti siamo saliti a 62 decessi, quindi vuol dire ieri eravamo a 61, si è verificato un unico decesso nella giornata di oggi. Alla famiglia di questa persona va veramente la nostra vicinanza e le nostre condoglianze. Altro dato, in provincia di Asti siamo arrivati a 633 positivi, eravamo 617, vuol dire 16 positivi in più di ieri. Ieri eravamo 19 positivi in più del giorno prima. Rispetto alle giornate scorse, dove abbiamo avuto dei 30, dei 40, addirittura dei 60, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo però continuare a comportarci in questo modo perché è indispensabile e perché non possiamo vanificare proprio adesso i sacrifici che abbiamo fatto. Vi lascio con un dato ancora positivo. In questo momento, presso la nostra struttura ospedaliera, vi è un posto di rianimazione libero. Nei giorni scorsi c'era il pieno, c'era la coda, c'era bisogno di cure, eravamo sempre, vi ho sempre detto, gestito tutto perfetto, tutto è, però se arrivavano un caso di 10, di 20 persone in un colpo che si aggravavano noi potevamo andare in difficoltà. Fortunatamente, questa è anche fortuna, oltre alla capacità dei medici, dell'organizzazione dell'ospedale, di tutte le istituzioni che hanno sempre collaborato, è sempre andata bene. Oggi abbiamo un posto di terapia intensiva libera. Allora, questo è la cosa importante. Abbiamo lavorato bene da poter spalmare nel tempo gli eventuali contagiati e far sì che non arrivassero tutti a intasare il nostro ospedale. La battaglia, l'abbiamo sempre detta, la si vince nell'ospedale, se regge la struttura ospedaliera, reggiamo tutti e ce la giochiamo tutti. Allora, iniziano a esserci quindi dei dati che sono perlomeno interessanti, non ci bastano. Continuiamo così, ci vediamo domani alle 10 mattina della diretta da Piazza Campo del Paglio, alle 19.10 domani sera. Buonasera a tutti, mi raccomando per piacere, condividete la diretta. Arrivederci, ciao!